Benvenuti ragazzi sul canale PG Passione Games, nuovo episodio dal gatto campionato di football con la squadra della Roma. Come sempre ringrazio tutti quelli che si sono divertiti domenica nel match contro il Napoli. Siamo tornati a vincere e quindi questa è la cosa più importante. Cerchiamo di dare una continuità in questa trasferta Brianzola contro il Monza. Monza che è bazzica diciamo a metà classifica, un po' come nella realtà. È sotto ovviamente di noi, però intanto andiamo a vedere, abbiamo 46.660 punti campionato. Vediamo cosa si potrebbe prendere, giocatori in prestito. Vabbè KK sapete che non possiamo prendere giocatori di questo livello. L'attaccante Isaac non ci piace. Questo terzino sinistro è guerriero, però bisognerebbe poi togliere qualcun altro. Sanchez che è un difensore scienziale interessante. Termina 10 partite. Shaka, anche questo è interessante. Kiewer, anche lui in CLS. Sa, portiere, ma a noi ci piace il portiere. Poi abbiamo alcuni giocatori. I pellegrini, il NM100, il Dibalino e poi Timothy, l'abbiamo già provato, Smiley. Lukaku, questo potrebbe essere interessante. Potremmo prendere Romeo Lukaku per 10 partite. Prendiamolo. E lo facciamo giocare subito. Quindi anche se nell'ultima partita si è comprato molto bene il nostro amico Turam. Però, ragazzi, torniamo indietro. Intanto, schema di gioco alla Turam. Lo rimettiamo in panca. Al posto con la T. Dai, difensori centrali ce ne abbiamo. Mettiamo panca. E poi mettiamo l'ultimo chi è? Castanet, Beckham. Abbiamo anche Beckham. C'hanno diversi giocatori. Musac, Van Basten, Rudiger. Ma c'è l'ultimo. Maradona. La squadra c'è. Allora, data di ingaggio. E' il punto. Dov'è? Giocatori in presto? C'è? Vabbè, vediamo un po' qui. Valutazione generale. Nome generale. Allora, punta. Posizione. Punteros. Perdiamo tempo su queste cose qui. Punteros. Alvaro Morata. Sabre. Guarda il cavolo. Eccolo qui. Lukaku. Lukaku sapete che i giocatori in prestito, i giocatori in prestito non rientrano nella nostra regola di non schierare più di due giocatori che non sono in prestito, over i 90, diciamo da 90 in su, quindi praticamente da 91 in su ecco, oltre i 90. Infatti noi abbiamo Chiesa e Palmer che sono uno 94 e l'altro 93. e poi tutti gli altri sono sotto. Quindi Lukaku prende la sua posizione davanti e quindi tu butta subito 10 partite con Lukaku. Andiamo al match. Monza. Monza è un'altra squadra ufficiale di E-Football, quindi giocheremo al suo stadio, nel Power Stadium, voluto da Silvio Berlusconi e, diciamo, è Galiani che sta continuando l'opera del buon Silvio. Allora, squadre ovviamente con le maglie titolari, questo è bello, diciamo, quando ci sono le squadre che hanno i diritti. Al tempo mi ricordo c'era, c'era più diritti di football, anzi PES che non FIFA, e ora invece c'è tutto, diciamo, un po' rimbarzato. Allora, ah, Romeo subito con la freccia lì, su! Come si fa ragazzi? Ma come si fa? Ah, mamma mia, io non posso far giocare uno con la freccia lì in su. Ora, capace se ne ha male qualcun altro, Turam giocherà a lui. Ragazzi, Romeo si spreca, si spreca una giornata di Romeo. Ora non so se il, come si chiama, se il prestito viene conteggiato anche se si mette nei sostituti, eh? Non lo so, comunque, vabbè, Romeo in panchina e Turam in campo. Abbiamo sprecato per il momento un bonus per lui. Poi tutto il resto sono tutti messi bene. Anche Oshoa molto, molto, molto bene, Chiesa insomma. Vediamo un po' l'avversario come gioca. Palladino, quindi qui c'è anche il nominativo. Gioca con 3-4-3, nominativo di allenatore. Con Di Gregorio Unporta, poi Pablo Mari, Carboni e Izzo, i tre difensori. Gagliardini e Pessina, due giocatori di esperienza, centrocampo. Poi Danny Motta, un CLS, così come Birindelli, l'ex Pisa. Poi Colpani e Carboni sono, diciamo, le due seconde punte. Alle spalle di un Juric un po' rispolverato. Un Juric che a me non mi è mai piaciuto, sinceramente, seguendo spesso e volentieri capito di serie B. e anche di serie C, questo giocatore faceva molto bene in serie B, ma in serie A è un po' una scommessa. Però sta giocando e quindi Juric è un giocatore di affidamento per quanto riguarda. Noi, quindi, non facciamo altro che scendere in campo. Questo video lo troverete condiviso sul gruppo di Facebook al cui farei venire il canale in qualità di amministratore, ovvero Epuntumicum Italia, che ha reeditato, appunto, il nome che, o meglio, è un gruppo reeditato da PES per Plane Normale. Abbiamo cambiato per, diciamo, aggiornarci, no, quella che è la nuova situazione. PES ormai non esiste più. Belle queste immagini, ragazzi. Questo è veramente, veramente bello. Allora, partita, diciamo, che il noi... Beh, anche lo stadio è bello, bello, bello. Dicevo, ma la partita è che noi dobbiamo giocare con la tranquillità e con la consapevolezza che siamo più forti. Quindi cerchiamo di evitare di fare cavolate. Quello lì sembrava l'allenatore palladino. Quell'attaccante, non so chi era, invece. E niente, la solita squadra che ha battuto il Napoli 2-0 ed è la solita squadra che ha perso a Cagliari, eh. Ma no, Cagliari no perché non c'era, non c'era Turam. Turam che, appunto, ha fatto una bella partita, oltre che a segnare, ma ha fatto una bella partita. Come sempre, l'episodio verterà di una sola partita, ma completa, con tutti i miei strafarcioni, i miei commenti, le mie arrabbiature. Un pochino a Caprari, un altro bel pezzettino, anche se il Monza è una bella squadetta. Una bella realtà, secondo me, è una squadra che ha un futuro. Diciamo un futuro, anche senza il leader, che appunto era il presidentissimo. Però, beh, non male, è una squadra che ha il suo... Ok, intanto vediamo anche gli schieramenti. 3-4-3, noi 4-3-3. Con Chiesa, praticamente, mi fa esterno un altro d'attacco. Un attacco pesante, ci abbiamo. Però non abbiamo risentito di questa cosa. Beh, parte il Monza. Dai, Ciccio. Pablo Mari, quindi parte l'azione dalla difesa. Bravo! Bravissimo! No! Mamma mia! E... Sì. L'unice è grossissimo, eh? Bravissimo! Subito! Subito! Razoterra! E Rondon segna il suo primo gol con la maglia della Roma! Grande questa azione, grande! Questa volta è stato Turam a fare da sfonda per Rondon e Rondon dopo 5 minuti. Si rica il suo primo gol in maglia giallo-rossa. Eh sì, si vedeva già che la squadra aveva la consapevolezza e il centrocampo del possesso del centrocampo strepitò su Parme in questi primi 5 minuti, eh? Ok, ha recuperato palla molto bene. Però è a schischi, vero? Poi qui Turam vede con l'occhio dell'occhio il buon Rondon, Rondon, non sbaglia. Tiro secco senza tirare le sassate sue e quindi bello questa azione. Bello Turam, sì. E portiere di Gregorio, probabilmente diciamo anche mal piazzato. 1-0 e primo gol di Rondon con la maglia giallo-rosa. Siamo avanti dopo 5 minuti. Cerchiamo di fare un filotto di vittoria. Ragazzi, c'è stato un momento. Allora, attenzione perché loro... Aio! 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 No! Subito! 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 Il pareggio del Monza con Djuric. Stiamo attendo. Giove una punta centrale con le due sue onde punte. 1-1 subito. Bella partita. Si incomincia subito con il botto. Gol di Rondon. Risponde Djuric. Le due punte praticamente. Bello questo lancio. Non si sono disuniti. I rossi... I bianco-rossi... Le Brianzoni. Bello questo lancio. E qui, bello anche il controllo e bello il tiro. E qui forse il capitano ha un po'... Vediamolo. Il capitano un pochino ha sbagliato. Non credeva... Eh sì, non l'ha anticipato. Non credeva che Djuric segnasse. 1-1 dopo 7 minuti. Tutto da riparare. Vai Ciccio! Peccato perché il gol ce lo siamo goduti poco. Ecco, intanto... Vai Cicchiski. Bravo! Decide di sfruttare la fascia. Sceglie di andare per via verticali. Recebe... Può concludere! Palmer. È peccato, non ci arriva. Si libera della parte. Con calma, con calma. Lungo passaggio in avanti. Provo a giocarla in profondità. Nello spa... C'è cattivo... Doppietta di Rondon. Doppietta di Rondon. Dopo 12 minuti. Segna ancora lui. Segna ancora lui. Ci ha preso gusto Rondon. Segna. 2-1 dopo 13 minuti. Partita pirotecnica. Questo è bello, questa azione qui, però. È bello. Oshoua saluta i suoi con quei capelli belli... Bello. Quel cesto di capelli ganzi. Veramente forti. Ma bello. Bella la stazione. Anche noi non siamo disuniti dopo aver subito il gol. Bello questo servizio. E ancora Rondon. Segna la sua seconda rete in maglia. Giallo-Rossa. Oggi è la prestazione di Rondon. Ha sempre giocato bene. Devo dire se c'era anche se il vote è bello controllo e poi piazza di nuovo. Nell'angolino. Sembra che lo faccia apposta. Ancora Turam questa volta a fare da supporto a Rondon. Credo che il buon Lukaku giocherà poco in queste... Perlomeno oggi non giocherà perché non ce n'è bisogno. La vede era si subito in altro gol. Attenzione perché prima loro... Addio. Sono ripartiti. Addio. Bravo. Turam. Grande movimento nello spazio. Hernandez. Chiesa. C'è approvato. Sotto. Ah. L'apporturista a Rondon. Un gran casino al centrocampo. Sotto. Sotto. Di un compagno davanti. Ha cercato la giocata nel... Bravo. Guarda. Butta la via. Riesce a buttarla via. Sotto. Sotto. Addio. Scivolata. Non riuscita. Eh. Stavo. Fallo. Fallo del capitano. Fallo del capitano. Attenzione perché... Colpani. Pochi c'è. Colpani tirerà la... La punizionaccia. Mamma mia. L'avevo vista. Ha trovato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. L'avevo vista... Male. No. No. No, Guler. Addio. Mamma mia. Mamma mia. Che errore. Alcune volte la nostra difesa dorme come... Guarda là. Guarda la Guler. Cosa fa? Le prime partite i nuovi sono stati strepitosi. Poi dopo sono un po' scesi. Poi dopo il difensore, eh. E non si passa. Con Danilo. Ma poi si fa queste cazzate. Bravo. Mamma mia. A tiro. No. A giro. Aveva provato il giro. Chi è? Da fermo. Bellissimo sto tocco. Rivediamolo. Rivediamolo. Aveva provato il giro. Controppianto velocissimo. Come è nostra caratteristica. Ha provato il tiro a giro. Bellissimo. Non ci è riuscito per poco. Grande. Grande. Giocata. Del giovane Chiesa. Allora intanto sto vedendo che in questa partita qui a differenza della partita precedente il buon Turam sta facendo da rifinitore. E Rondon quindi si atterrano. Bravo. L'ha provato, eh. Ragazzi, sto Rondon. Ce l'ha fatta, eh. Qui è nostro. Uh, anche Marcus. Sigla. 3 a 1, ragazzi. Che gol di Marcus. Che gol ha scelto. L'ha scelto. L'ha cercato. E ha scelto l'angolino. 3 a 1. Bello. Bello, bello. Bello tutto. Veramente una Roma strepitosa. E ti fossi veramente onorate quella maglia. E la stanno onorando. Bella partita. Bella partita. Divertente. Ragazzi, io sto continuando a dirvelo. Però, ovviamente, qualcuno mi ha chiesto, negli ultimi commenti, commentate perché a me fa piacere. Mi ha chiesto, appunto, come se è online questo tipo di modalità è offline. La trovate, appunto, tra, nelle varie opzioni, diciamo, cliccando su partita e c'è questo campionato. Ripeto, non è la Master, però, per chi come me era amante della Master, come tanti come me, ovviamente, questa è una modalità che assomiglia a una parvenza. Ed è divertentissima perché, bene o male, quando ci sono queste partite che comunque sono molto tirate, poi voi dovete scegliere anche il livello, eh, a cui giocare. Mamma mia. Cosa volevo fare? Controlliamola a questa partita, non possiamo perdere, eh. Pallo. Attento. Mamma mia, Giorgi, cosa ha sbagliato? Però sempre lui, ragazzi, in mezzo a tre esce fuori di questo spinugone. L'ha munito. Ai, 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 ai. Eh, sì, c'è Elick un po', un po' così giusto, ha ragione, la repatta gli ha dato. Boh, da dietro, tacchettina, ha ragione. In realtà è anche voluto bene e attenzione che buttiamo via ci abbiamo due pennelloni davanti. L'ha munito, Gule. Magari in seno tempo lo vediamo se... Oh, bello questa azione qui, ragazzi. Servizio di Musac per la corrente Turam non ce l'ha fatta. Bello che guida, ragazzi, col pulitacco, giocate veramente. Una Roma letteralmente cambia. Bello, questa azione qui. La Roma completamente rigenerata dopo le primissime partite di mister José Mourinho, dove veramente credevo di ritrocedere e invece ora ovviamente ormai ti butta fuori, espulso, ti butta fuori, ti ha già munito, cambiamolo, nel seno tempo cambiamo, è nervoso, Cekinski nervoso si metterà Luis Alberto, ora vediamo un attimino, guarda che fallaccia ha fatto, dai, ti ha voluto bene l'arbitro, ti ha voluto bene, ti ha voluto bene, forza, dai, poi vedete, c'è anche le stamine dei giocatori, non sono, attenzione, eh, ho paura, eeeh, una scivolata abbastanza dura, recupera il pallone scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire, mette la palla in avanti, ah, si è bloccato, tutto, bravo, bravo, ahhh, finito il primo tempo, cambiamoci rischi perché altrimenti si rischia che vada fuori, è tanto bello anche questa immagine di Pessina, il capitano, che otto tiri, schema di gioco, sostituiamo, dai, sostituiamo Cilischi e mettiamoci, eh, io direi di far giocare, eh, Alberto, dai, Luisa è bello, troppo Cristante ha perso il posto, magari gli ultimi dieci minuti, visto che si è dovuto, si è messo in campo e quindi si è sprecato, magari mettiamo dentro anche Lukaku, vediamo la forza, la potenza del giocatore di colore che nella realtà appunto milita nella Roma, quindi abbiamo preso più che volentieri, poi credo io, stava con... con karma, sembrano esserci i cambi nella formazione, quello che si appressa a tornare sul terreno di gioco sarà una squadra di re. Bello sto lancio, bello sotto, sotto, ciccio, ah, lo terreno, cioè, piove, sta piovendo, no? Calcio d'angolo, calcio d'angolo, sei girato, quadra, una delle peggiori squadre, devo essere sincero, eh, questa qui, una delle peggiori squadre, magari non elegante, ma non importa, palla pronta per il secondo calcio d'angolo, soltanto uno dall'altra parte, ah, l'ha presa lui, vai, Ulisse, bravo, ripartire in velocità, ad attaccare così si rischia sempre il contropiede, uuuuh, Palmer, peccato, peccato, siamo sempre avanti di due reti, torniamo a casa, l'obiettivo di tornare a casa con la vittoria, una vittoria che ci allungherebbe ancora in classifica, ripeto, noi siamo troppo lontani dalle prime posizioni, quindi, però, renderebbe più, meno amaro, ecco, il campionato per come si era proposto all'inizio. Bravo! nooo, cosa ha preso, cosa ha preso di Gregorio, bello questo lancio, ragazzi, guardate cosa ha fatto Musao, guardala che lancio, bello, l'ha visto, l'ha lanciato, ah no, no, era cosa, era Teo Hernandez, eh, bello, sta sassata, un Teo Hernandez che sale parecchio, eh, terzino che spinge molto, ancora calcio d'angolo, aria piccola, tutti dentro, vai Sciccio, ah, un gravigliolo di persone, in aria un gravigliolo, ah, aria, aria, attenzione, che è fatto in ripartenza, scavalca la difesa con un pallonetto, supera il diretto avversario, bravo, no, sta indietro, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato, per la facilità con cui si sono fatti sorprendenti, io voto, io ci do voto, mamma mia, mamma mia, i attaccati non ce la fanno più, bisogna cambiarli, che lavoro sta facendo Palme, c'è bisogno di stringere una delle difese, ci sono elementi pericolosi in campo oggi, non è una sorpresa, anche Danilo strepitoso, eh, sul tabellino dei marcatori viene identificato come pericolo pubblico numero uno, Marcos Duram, quando avrete, può colpire, uh, tripletta, che gol, grandissimo gol di Rondon, strepitoso, tripletta di Rondon, è lui l'uomo della giornata, l'uomo di copertina, strepitoso, che gol, bellissimo, bellissimo anche il gesto atletico, di Gregorio, non ci può fare niente, anche lui, si rende conto, Roma, stra-rippante, 4-1 quel di Monza, veramente, veramente, una super squaglia, super, super, vediamo come si è girato anche Turambello, qui, si è fatto spazio, e poi ha visto, oh, il solito angolino, tre tiri, tre gol, e di Gregorio, allora, vi direi di, eh, dare anche una stand innovation, a Rondon, il migliore in campo, sicuramente, non solo per i gol, ma anche per i gesti atletici, che, guardate, grande anche la sua esultanza, e soprattutto, l'abbraccio, con il giocatore, allora, cambiamo anche noi, cambiamo, perché Rondon e Turam, non ce la fanno più, costituti, mettiamoci, eh, Lukaku, e poi, in campo, mettiamoci, anche Giroud, e diamo modo, a, a questi due giocatori, di avere un po' di minutaggio, entra in campo anche Lukaku, entra in campo anche Giroud, praticamente non cambia nulla, perché due grossi davanti, forse un po' più lenti, rispetto, agli altri due, soprattutto Giroud, perché, insomma, non è, un giocatore di forza, cioè, di forza, ma non di corsa, però non c'è palla, intercetta il pallone, dopo una lettura magistrale, Hernandez, ah, c'è solo l'Unsher, ma gli avversari hanno fatto buona guardia, la palla entra in aria, grande, la mette in avanti, devono essere veloci, per sfruttare la transizione, ecco il filtrante per Giroud, chiesa, troppa, ecco l'occasione di contropiede, mamma mia, che partita, mamma mia, che sassata di Giroud, di Gregorio, deve fare gli straordinari, anche sul 4-1, bella, rivediamola anche questa azione, bellissima anche questa azione, colpo di tasco di Lukaku, e Giroud, quasi a botta sicura, però, grande riflesso del, del portiere della, ora noi abbiamo due, due, esperti, che è qui, no, possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti, attaccare con troppa foga, a volte può condurre, a un tapovolgimento di fronte, fallo eh, comunque, se avviamo verso, una, sinceramente, dopo, dopo l'1-1, credevo che la partita fosse, si intavolasse su un altro binario, invece, si incanalasse, non intavolasse, tanto per il possesso palla di loro, ma, passaggini, aio, aio, aah, oggi il portiere è un po' sotto tono, oggi il portiere è un po' sotto tono, 4-2, magari, la piedola meno amara per il Monza, con Ciurria, segna l'ottantaquattresimo, l'ottantacinquesimo, scusate, e porta, ovviamente, il pallone a metà campo, perché credono di riuperare, noi abbiamo svegliato qualche cosettina, qui il portiere, mi sembra un po' meno preparato, eh, rispetto alle altre partite, qui non poteva fare niente, a te a parte, eh, Ternandes, che va un po' troppo a giro, vabbè, si riparte, bella però questa partita, eh, eh, no, non corre, non corre dell'altro, si presenta così, Romeo, si presenta così, girate in rete, del sette, 5-2, strepitosi, che gol di Romeo, al debutto, che gol, che gol, si è girato bene, e anche lui, un'altra volta, manda a fare, a quel paese, manda a quel paese, i propri difensori, ma non puoi fare niente, con la forza fisica di Romeo, che vi ricordo, c'è la prescia, verso il basso, non basso, basso, rosa, ma guardiamo, ancora bello il, l'1-2, qui ancora Chiesa, Romeo si gira, e poi, spalla la porta, si gira, controlla, e tira, 5-2, e bagna così il debutto, con un bellissimo gol, pur da subentrata, negli ultimi 10 minuti, gol, e, veramente, grande, grande prestazione della Roma, qui un abbraccio, Chiesa gli ha dato un pallone al bacio, Teo Hernandez, sempre presente nelle azioni davanti, è un'ala giunta, diciamo, in questo nuovo, così, schema, che il mister, questi fanno tutti i passaggini, attenzione, attenzione, è spallata, bravo, e, l'ho detto lui, che non è che sia, un velocista, Pessina, supera il diretto avversario, Caprani, l'arbitro ha comunicato, 4 minuti di recupero, al quarto uomo, ecco il fietratte per Giroud, Chiesa, la Roma, al calcio di Pessina, fallaccio, fallaccio ci sta, la vogliamo unire, cioè, fischi, la vogliamo uniscilo, c'è una palla a noi, sì, è giusto il fallo su Giroud, insomma, c'è una palla a noi, comunque, Giroud ha tenuto alta, la squadra, quindi hanno fatto il loro, finita, strepitosa vittoria, in quel di Monza, 5 a 2, si torna a, vincere fuori casa, ma soprattutto, diamo continuità, la splendida partita, contro il Napoli, che vi ricordo, se non l'avete vista, domenica, trovate la playlist, e quindi vedete anche la partita, strepitosa partita, ma questa, veramente, bellissima, forse la più bella partita, è la Roma, con un rondon, spettacolare, autore di una tripletta, vediamo un po', 14 tiri, 9 in porta, di cui 5 questa volta, abbiamo aggiustato la mira, e quando si aggiusta la mira, sono cavoli amari per tutti, vediamoci un attimino anche, le pagelle, Oshoa, 5 e mezzo, sono pienamente d'accordo, Guler, 4 e mezzo, forse, forse, magari sì, ora così, troppo insufficiente, no, Cekinski, 7, ecco, però io Cekinski, forse, gli avrei dato meno, Palmer 6, a mio avviso, ho giocato meglio Palmer, però Cekinski ha fatto, un lavoro di contorno, Danilo, e Ternandez, non sono d'accordo, con il 5 e mezzo, di Theo, e neanche il 5 di Danilo, perché, Theo è stato presente, forse perché ha sbagliato, anche davanti, Chiesa, Turam, Rondon, 8 e mezzo, poi Lukaku, 6 e mezzo, e tutti sufficienti, dalla cintola in su, e poi, il buon Giroud, 5 e mezzo, ecco, 5 e mezzo, anche no, perché ha tenuto alta, la formazione, secondo me, dall'altra parte, tutte e tante insufficienze, quando perdi in casa 5 a 2, con Spicca, il 4 di Colpani, perché inesistente, e poi, i migliori in campo, sono Ciurria, Juric, gli autori di gol, naturalmente, e Birindelli, che a centrocampo, oggettivamente, ci ha dato dei grossi problemi, andiamo avanti, vediamo i risultati della giornata, ricordo che, siamo alla 24esima giornata, e, quindi, ancora qui, vediamo un attimino, allora, il Cagliari vince a Frosinone, e in guai a Frosinone, il Cagliari, netta ripresa, dopo la vittoria, oltre di noi, ha fatto un filotto, questa è la terza vittoria consecutiva, quindi, Cagliari, in netta ripresa, vince a Frosinone, e in guai a, i Sciuciari, poi, la Serenitana, riperde, praticamente, diciamo, quasi abbandona, la lotta, anche se è ancora lungo il campionato, però perde 2-1 a Bologna, Bologna che si stabilizza a metà classifica, il Napoli, dopo la sconfitta di Roma, perde anche a Milano, contro l'Inter nazionale di Milano, l'Inter, 4-1, netta la sconfitta, e quindi, lo schianto del Napoli, è abbastanza evidente, l'Atalanta, non molla, vince 4-3 contro il Verona, a più tecnico, 4-3, e quindi, mantiene le distanze da noi, l'Empoli perde di misura, 1-0 contro il Torino, e poi, la Fiorentina, seconda vittoria di fila, vince a Genova, quindi, crede ancora in un posto, d'onore, perché con questa vittoria, ovviamente, avvicina il Napoli, e tiene distaccata, credo il Milan, perché il Milan, no, il Milan ha vinto, niente, perché tiene distaccato l'Atalanta, poi, la Juventus pareggia, 0-0 contro l'Accion, che era il big match, della settimana, il big match della giornata, e quindi, praticamente, l'Inter, agguanta, diciamo, due punti in più, poi, noi vinciamo 5-2, nettamente contro il Monza, e poi, il Milan, batte e spugna il, in campo del Vincen, in casa dell'Udinese, e quindi, 1-0, e quindi, anche lui, avvicina, e rosicchia punti al Napoli, per una classifica, che vede, la Juventus è sempre in testa, ma, con due punti soli, di distacco dall'Inter, e, 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 quattro punti dal Milan, quindi, avvincente, questo, campionato, per quanto riguarda, le, diciamo, le zone di testa, perché poi il Napoli è stato risucchiato, quindi, dal secondo posto, è sceso al quarto posto, la Fiorentina non molla, così come l'Atalanta, quindi, quinta, con 48 punti, diciamo, a, tre punti, dalla, diciamo, dal podio, io, poi, io tendo il primo, sono del terzo posto, poi l'Atalanta a 46, la Lazio a 46, e poi ci siamo noi, quindi, ottavi, ci stabiliamo all'ottavo posto, quindi, è la nostra, la nostra posizione, credo, che la porteremo, fino alla fine della stagione, a meno che, non ci sarà, un filotto di vittoria, da parte, della squadra giallorossa, la Lazio è distante, troppi punti, otto punti, anche se, nello scontro diretto, abbiamo vinto, e quindi, nettamente, 3 a 0, credo che la vittoria di oggi, sia la vittoria più lunga, più ampia, della Roma, quindi 5 a 2, non abbiamo vinto, 5 gol di una partita, poi, giù giù, il Torino, quindi si stacca un po', dalla Roma in giù, si stacca un po', la classifica, Torino a quota 33, il Verona a quota 31, e poi, in fondo, la classifica, vediamo, Cagliari, che agguanta il Frusinone, ma, per differenza reti, è sempre in, il terzo ultimo, quindi il retrocesso, al momento, la Salernitana e il Lecce, dicono quasi, si staccano, ovvero, la Salernitana ha 18 punti, quindi, dal Frusinone, c'ha solo due punti, quindi, è meno di una partita, sostanzialmente, c'è una vittoria, e, un pareggio di Frusinone, una sconfitta, porterebbe, l'aggancio, anche se la differenza reti, è notevole, meno 20, ma, io vedo molto, molto bene il Cagliari, e, la mia previsione, appunto, è quella, anche se l'Udinese, è sempre in zona, ma, insomma, delle ultime, è quella più attrezzata, poi c'è il Genoa, a 25, quindi, diciamo che la lotta, appena retrocedere, riguarderà l'Udinese, il Frusinone, il Cagliari, e la Salernitana, e, ahimè, credo che il Lecce, abbia già mollato, gli ormeggi, e, a mio avviso, scenderà, il Frusinone, Salernitana, e il Lecce, con il Cagliari, che, appunto, con una rimonta strepitosa, ripeto, ha vinto 5 partite, vedete, tutto il campionato, le ultime 3 le ha vinte, 8 e 3, quindi, in ente riprese, la squadra di Mr. Ranieri, sarei curioso di vedere, chi è il, il goleador, se Pavoletti, magari, l'uomo della provvidenza, come dicono, a Cagliari, poi, vabbè, Genoa, e Bologna, questi sono a 425, quindi, non hanno niente da, come dire, da, non hanno più obiettivi, se non quello di, onorare il campionato, così come il Monza, insomma, che oggi, ha preso una bella sassata, ragazzi, io direi di chiudere qui, come sempre, il prossimo episodio sarà domenica, contro chi è, vediamo un po' con chi si gioia domenica, sì, vabbè, allora, giochiamo contro la Salernitana, allora, ragazzi, attenzione, per noi potrebbe essere la partita della, diciamo, svolta, ovvero, contro la Salernitana, i pronostici sono tutti al nostro favore, però attenzione, perché la Salernitana sta lottando con le unghie e con i denti, per un posto, diciamo, sopra il terzo, ultimo posto, diciamolo sì, quindi, attenzione, perché, perché una nostra, noi contro le squadre che sono inguaiate nella lotta per non retrocedere, non andiamo molto bene, ricordiamoci Frusinone, ricordiamoci recentemente Cagliari, abbiamo perso 2-0, pur facendono una partita, quindi, questa partita va tenuta d'occhio, perché la Salernitana è una squadra che ci potrebbe da noi, ma noi siamo la Roma, e quindi bisogna assolutamente vincere, e voi non lo vedete perché c'è il mio facciore, ma negli ultimi 5 partiti noi abbiamo fatto 4 vittorie e una scompita, quindi, siamo una squadra che, come media punti degli ultimi 5 partiti, non abbiamo niente a che invidiare, alle prime della classe. Abbiamo finalmente trovato, diciamo, un attacco che segna, pur non avendo giocatori in peste, lasciate perdere il calco, che probabilmente anche domenica entrerà a gara in corso, che dire, ragazzi, questo video, come vi ho detto già all'inizio dell'episodio, lo troverete, oltre che nella polizia dedicata, anche sul gruppo di Facebook, e la pagina di Facebook dedicata appunto al canale, il gruppo di Facebook dedicato al gioco è Football Community Italia, il vecchio Pessi per Plane Normali, quindi andate a vicino a chiare, siamo quasi, siamo un po' più di 400 ragazzuoli, e quindi magari unitevi, insomma, c'è diverse cose che potete fare. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, ciao belli, ciao ciao ciao.